mamma che cosa c'è fammi vedere no no niente 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 aspetta lascio stare lascio stare cuoricini qualcuno ha scritto che martina è brutta e che i nostri video sono brutti mi dispiace martina mi dispiace mi dispiace no sono brutti perché martina che cosa è successo ma buongiorno cuoricini io sono mamma ti e io sono martina mi dispi e insieme siamo la famiglia mi dispi con mamma ti buongiorno ai cuoricini di tutto il mondo oggi un gattino il cagnolino le tartarughe ed un cricetino se fai click su nostri video quante storie troveranno martina mi si combina guai martina mi si combina guai cuoricini dimenticavo due mio fratellino leone cuoricini oggi iniziamo con il salutare alessandra e salvatore e ancora salutiamo sabbo e lunazzo e salutiamo anche giulia e anche delia si 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 allora martina e leone venite venite che oggi mamma ti legge un po' di commenti che i nostri cuoricini hanno lasciato in questi giorni nei nostri video vieni qua ricordo ci sono tanti commenti bellissimi sediamoci qua sediamoci qua vieni leone anche tu allora vediamo un po' che cosa ci scrivono di così bello guarda martina adesso che tu stai imparando a leggere puoi leggere anche tu questi commenti guarda martina c'è scritto vi adoro siete la mia famiglia preferita ma che carino grazie grazie e poi ancora e poi ancora e marta scrive siete veramente divertenti ma che carina grazie marta grazie e poi ancora lì c'è scrive martina sei adorabile ti voglio bene anch'io ti voglio tanto bene e qui e qui e qui e qui scrivono e qui scrivono mamma ti sei una brava mamma grazie 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 mamma che cosa c'è fammi vedere no no niente 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 eh niente lascia stare lascia stare una sciocchezza niente mamma dammi subito il telefono che devo leggere cosa c'è scritto no amore ma niente 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 di importante aspetta aspetta lascia stare lascia stare Martina dai non ci farei caso Martina cuoricini qualcuno ha scritto che Martina è brutta e che i nostri video sono brutti mi dispiace Martina mi dispiace mi dispiace mamma ti dispiace per me vero? no Martina non mi dispiace per te mamma non ti dispiace per me eh no Martina non mi dispiace per te mi dispiace per la persona che ha scritto questo commento ma come mamma ti dispiace per questa persona? scrive cose brutte ti dispiace per l'ora? vieni qua Martina vieni che ti spiego amore vieni qua vieni qua vieni qua vieni qua allora 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 vieni qua lo spiego anche a te anche se sei piccolino ancora ma presto lo capirai anche tu Martina ascolta bene Martina sai perché mi dispiace per questa persona che ha scritto queste cose? sai perché? perché questa persona è triste evidentemente perché quando una persona è felice non le scrive certe cattiverie quando una persona è felice non gliene frega proprio niente di quello che fanno gli altri di come sono gli altri anzi quando una persona è felice fa sempre i complimenti agli altri sempre invece quando una persona è triste scrive di queste cose brutte e quindi a me dispiace per questa persona perché sicuramente per avere scritto queste cose a una bambina così dolce e carina vuol dire che è una persona triste e soprattutto Martina una persona sola non lo so mamma però a me mi dispiace che mi dicono queste cose io voglio veramente bene a tutti ma non faccio mai domare a nessuno amore mio mi fai commuovere te lo giuro amore lo sai che facciamo? lo sai che facciamo? eh? ci andiamo a prendere un bel gelato io e te insieme mamma no io non voglio uscire più Martina ma che stai dicendo? adesso per uno sciocco commento non vuoi neanche uscire più Martina dai smettila invece adesso usciamo e ci andiamo a divertire ok? va bene mamma andiamo dai su su andiamo dai andiamo 5 minuti dopo dai Marti tranquilla adesso ci prendiamo un bel gelato e ci divertiamo siamo qui al parco dai Marti non ci pensare più non ci pensare dai non ci pensare più mamma sono troppo triste ma sono troppo triste e vado a lontano Martina mi si è oh oh io stanno in una gara e vado a lontano ragazzi c'è Martina ragazze ma ciao ciao Michele ciao 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 Martina sono tanto contenta di vederti anche io Michele sono contenta di vederti però sono un po' giù perché Martina? che cosa è successo? Martina contaci tutto e niente una persona mi ha insultato Martina ma non ti preoccupare quelli che ti insultano sono solo dei invidiosi sono solo dei invidiosi certo Martina sono tutti invidiosi noi ti vogliamo bere benemente questa è la mia best friend facciamo un selfie io e e poi Martina le amici bere quelle che non tradiziono stanno insieme nei momenti belli sia in quelli brutti e io che sono la tua vera amica starò con te oggi perché tu sei triste ti voglio bene grazie anche io 5 minuti dopo ragazzi lo sapete che vi dico? che cosa? adesso andiamo a prendere un buonissimo gelato chi viene con me? andiamo 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 aspettate aspettate manca qualcosa e cosa? ola ola hai ragione con mamma ti buongiorno hai cuoricini di tutto il mondo poi c'è un gattino il cagnolino le tartarughe ed un cricettino se fai click su nostri video quante storie troverai Martina Missi combina guai Martina Missi combina guai il cagnolino è piccolino fai il buonino fai noi siamo invincibili perché noi siamo la guada Missi cuoricini questa è la vera amicizia e noi a dopo e comunque Martina adesso dobbiamo andare Martina adesso dobbiamo andare via saluta le tue amiche perché dobbiamo andare via mi dispiace ci vediamo un'altra volta va bene ci vediamo la prossima volta ciao 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 ragazzi ciao ciao aspetta aspetta c'è qualcuno ti insulta tu puoi contare su di noi